La mobilitazione avviata dagli agricoltori sul territorio in diverse zone d'Italia e non solo arriva in consiglio comunale. Il capogruppo di Forza Italia e presidente della Commissione Ambiente Rosario Trenito ha formalizzato la richiesta per una seduta del civico consesso da tenere nei luoghi del presidio di Ponte Olivo o comunque in presenza degli agricoltori. La protesta di questi giorni che oltre a vedere tutti i giorni nei giornali di G nazionali e in tutta Europa si è anche riversata nel nostro territorio e credo che sia una situazione veramente critica ormai diventata, quindi la politica deve comunque dare un sostegno a quelli che sono gli agricoltori e dare un appoggio a quelle che la loro protesta. Sappiamo benissimo che questo monotematico o il Consiglio Comunale di Gela non potrà cambiare le sorte di quelle che sono delle leggi imposte dall'Unione Europea che stanno distruggendo quello che è il mercato agricolo, però sicuramente dare come forza politica un appoggio a quelle che la protesta di agricoltori dare voce, fare risonanza per dare aiuto a quelli, per far sentire quelli che sono i loro problemi sicuramente è doveroso, penso, da fare da parte di tutti i consiglieri comunali e tutta la, diciamo, anche l'amministrazione. La crisi nera del comparto a livello locale si trascina da tempo, manca l'acqua delle dighe, non ci sono i servizi, le aree rurali sono troppo spesso alla Mercedes che agisce per furti o per danneggiare. I prezzi alle stelle per la produzione acquiscono poi una flessione che ha già portato alla chiusura di tante aziende in una delle aree più vaste della Sicilia, ma che da anni vive gli effetti di contraddizioni enormi che bloccano il comparto. Uno dei punti della richiesta monotematica che ho formalizzato è proprio questa, che già da anni sentiamo che i ricoltori sono in crisi a causa della siccità che ha rovinato tutti i loro raccolti e chiedono che la diga venga nuovamente messa in piena funzione. Purtroppo sono state richieste che non sono mai state prese in considerazione, motivo per la quale oggi, quando sarà questo consiglio comunale, oggi noi chiederemo che ci punti l'attenzione anche sulle dighe, facendo intervenire anche quelli che sono i nostri parlamentari regionali e facendo anche quello che può essere risonanza a livello regionale. Infatti, come diceva il Presidente Sammito, se questo consiglio comunale non dovesse portare dei frutti, e anche su quella che la diga, di continuare a fare un altro consiglio comunale proprio direttamente alla regione. Intanto, nei giorni scorsi, anche il Sindaco Lucio Greco ha incontrato una folta delegazione di produttori agricoli. Il primo cittadino si è impegnato a chiedere un incontro all'assessore regionale dell'agricoltura sul tavolo. Ci sono diverse proposte, come il riuso di acqua e reflet sfruttando la condotta esistente ai sette farine attraverso il depuratore e l'impianto di affinazione di Eni.